Ciao amiche, e ciao amici, e ciao amiche in particolare, ok? Vero? Anche amici. Ti volevo parlare di questo perché l'ho comprato l'altro giorno, questi Red Kinney, ok? E sono, vabbò, il marchio, la casa produttrice, il Delizie dal Sole, e adesso, cioè, tu li vedi così, non ti ispirano, eh? Ma ti assicuro, che sono di una bontà, naturalmente nessuno mi paga per fare questa pubblicità, ok? Questo lo premetto, e magari qualcuno dirà che questo video, boh, fa ridere, ma chi se ne frega? Cioè, alla fine, se uno sta a pensare a quello che possono dirti gli altri, non fai più nulla. Ovviamente è un prodotto di Eurospin, ok? Sono dei fagioli rossi, appunto, si chiamano Red Kidney, spero di pronunciarlo bene, e sono di una bontà, ma di una bontà, nonostante, magari come puoi vedere, non siano particolarmente imitanti dal colore, ma ti posso assicurare che sono veramente, veramente squisiti, buonissimi. Infatti, sto anche friggendo due patate, e le andrò ad assemblare, le mangerò con le patate, ok? Sto friggendo le patate a pezzi, ma di una bontà, credimi, buonissima. Infatti, come hai visto, all'incirca la metà le ho mangiate già, forse anche un po' meno. È un prodotto Eurospin, come dicevo, quindi troverai, adesso non so se si riesce a mettere a fuoco esattamente. E, ok, Eurospin Italia, troverai la casa produttrice, è questa, delizia dal sole, chiaramente fa altri, ci sono, fa altri, questa casa produttrice fa altri prodotti, troverai qui i valori nutrizionali, vedi? Ok, per 100 grammi di prodotto, una scatola di fagioli, ok, peso sgucciolato di 242 grammi. Comunque, voglio dire, li ho comprati così a caso, non ne conoscevo l'esistenza, mi ispiravano, perché io sono attratto da questi, bu, cibi, chiamiamoli particolari, chiamiamoli cibi, ok? E li ho comprati, ok? Bu, se vuoi, li provi a testare, li testi. Ciao e buona giornata o serate, secondo me, quando vorrei dire questo...